Io lo definisco un timido scontroso. Lo trattavo con un certo riguardo, ecco, mentre con Paolo Borsellino c'era un'amicizia di famiglia che nasceva dai miei suoceri, con i suoceri di Paolo. Giovanni Falcone era tra il timido e il diffidente. E lui nascondeva la sua timidezza con l'essere scontroso, questo di farsi vedere che non provava sentimenti. L'ho invitata a cena qualche volta a casa, ricordo una cena di lunghi silenzi. Non era di quelli che danno subito e si allargano, tutt'altro, anzi stavo un po' in difesa. Una persona più riservata, ma il rapporto con noi era un rapporto leale e schietto, franco. Si muoveva in una certa maniera, sorrideva in una certa maniera, non diceva mai grazie, diceva un signore ci paga, raccontava a Barzelletta è stupida e noi ridevamo perché erano proprio stupide. Poi lui piaceva anche scherzare sulle parole. Un giorno mi fa, ma con quel diputato assaggia l'uva? Com'è finita? Assaggia l'uva? Mi ha pensato di solito, mi fa, come di solito? Io non lo so che assaggia l'uva. Amanti, dai, sai, mangia racina. Mangia racina in italiano è assaggia l'uva. E come dire, mi sono, come si compiaceva. Non mi ha mai dato del tutto, sempre il signor Papa Arcuri, ma più che il signor Papa Arcuri mi chiamava Papa. Io dicevo al dottore Falcone, non mi chiami Papa, perché Papa era il soprannome del Papa della mafia di Greco Michele. Diceva, no, io me lo posso permettere. Si diceva che aveva un brutto carattere, ma era di carattere, chi c'ha carattere diceva brutto carattere, la cosa bella, bellissima, era che le cose te le diceva in faccia. Eravamo uniti a noi, uno per tutti e tutti per uno, anche dal punto di vista personale, dal punto di vista familiare, senza risparmiarci. Eravamo uniti a noi, uno per tutti e tutti per uno, La bellezza di quell'ufficio è che c'era quella grande testa di Giovanni Falcone con i suoi contatti, le sue relazioni. Giovanni era il prototipo della persona che sa sempre quello che deve essere fatto, che deve essere deciso. Una persona sempre presente a se stessa, sempre alla ricerca di spunti nuovi. Insomma, la carretta la tirava lui. Giovanni è la decisorietà, se si potesse dire. La facoltà di decidere è impersonata. Quando lui andava negli Stati Uniti era come andare con un capo di un governo. Veniva accolto non solo con affetto, ma anche con uno sfoggio di potenza americana dalle macchine, dagli accompagnatori, cioè cose che gli americani non fanno in genere. Un uomo fa quello che è suo dovere fare, quale che siano le conseguenze personali, quale che siano gli ostacoli, i pericoli o le pressioni. Questa è la base di tutta la moralità umana. Questa frase che è di Kennedy, il presidente degli Stati Uniti, il dottor Falcone la teneva dietro alle sue spalle. E quando venivano i magistrati di nuova nomina, gliela leggeva proprio e i nuovi magistrati dovevano fare tirocini con questi ragazzi. Si lavorava insieme, nel senso che, avendo sempre come guida e come coordinatore Giovanni Falcone, si scambiavano idee, si organizzavano strategie processuali. Per esempio, appena potevo, partecipavo con Giovanni Falcone agli interrogatori che faceva lui. Specialmente in quel periodo, questi magistrati, oltre a lottare contro Cosa Nostra, dovevano lottare contro le invidia, le gelosie, le pressioni che c'erano all'interno di questo palazzo di giustizia. Non ci dimentichiamo, veniva chiamato il palazzo dei veleni. Quando si parla dei dolori e dei dispiaceri che ebbe Giovanni Falcone, è giusto ricordarlo. Soffrì parecchio per la circostanza che il CSM non lo nominò mai procuratore nazionale antimafia. Nonostante queste pressioni o gli ostacoli di qualsiasi genere, bisognava andare sempre avanti. Ho esposto una fotografia del dottore Falcone. Ho la stessa posizione che aveva il 16 dicembre dell'87, la data della sentenza del maxiprocesso di primo grado. E mi sento chiamare, papa venga qui. Stavo per entrare e mi sono bloccato. Ho detto che è bello vedere il dottore Falcone, sta sorridendo. L'ho visto sereno e mi disse abbiamo vinto. Finalmente ci sono state le condanne a maxiprocesso e l'ho messo là quel sorriso e spiego ai ragazzi che non era un sorriso di un forcaiolo, di una persona cattiva che si era vendicato dai cattivi e le aveva fatta arrestare e condannare. Era semplicemente il sorriso di soddisfazione che tanti anni di lavoro passati qui dentro, tanti sacrifici, aveva prodotto un risultato. Finalmente dopo quella data tutto il mondo non potevamo più dire che a Palermo, in Italia, in Sicilia non esistesse la mafia. Grazie a tutti.